Senatrice Chiavaroli è arrivata la vittoria a Chieti del sindaco uscente Umberto Di Primio, una vittoria anche dell'NCD. Certamente, io sono molto felice per questo risultato, Umberto se lo meritava, la sua è stata una candidatura nella quale noi abbiamo molto creduto e per la quale ci siamo molto battuti tra l'iniziale scetticismo anche dei nostri alleati. Questa vittoria di Umberto Di Primio dimostra che il centrodestra è vivo e vitale e quando presenta buoni candidati e organizza per tempo le proprie candidature e le proprie liste è ancora in grado di vincere. Per noi oggi è davvero una bella giornata. Questo ballottaggio, senatrice, dice anche che il centrodestra unito può vincere. L'Abruzzo dimostra la possibilità che il centrodestra può ancora vincere, può ancora essere una forza che i cittadini votano quando fa proposte credibili come noi stiamo facendo. Quello di Chieti è un laboratorio che può essere anche esportato a livello nazionale a questo punto. Noi ci proponiamo per fare questo. Io non ho approfondito ma credo che Umberto Di Primio sia l'unico sindaco del nuovo centrodestra di una città capoluogo. Questo ci inorgoglisce ancora di più perché noi abbiamo dimostrato che quando il candidato è valido, quando ha lavorato bene, anche in un periodo difficile dove essere riconfermati, è davvero un'impresa ardua, non contano le polemiche nazionali, non conta la disaffezione per la politica, contano soltanto le buone idee, le buone proposte e le brave persone.